ciao a tutti oggi prepareremo i pannini con le noci il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più tre ore di lievitazione ingredienti sono grigli di noci lievito di birra fresco olio extravergine d'oriva zucchero acqua farina di tipo 0 semola e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua il lievito di birra fresco e lo zucchero azioniamo i bimbi per tre minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo la semola la farina di tipo 0 l'olio i grigli di noce che abbiamo fatto a pezzetti e il sale facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasferiamolo in una ciotola unta con olio copriamo con pellicola trasparente e riponiamo in forno spento per due ore lasciandolo lievitare trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro dividiamo l'impasto in otto parti uguali abbiamo diviso l'impasto in otto parti uguali adesso andremo a formare i panini posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno prima di riporli in forno spento a lievitare spolverizziamoli con la semola riponiamo l'inforno spento per un'ora a lievitare trascorso il tempo di lievitazione adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per almeno 20 minuti o sino a doratura i panini sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servirli panini con le noci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 Grazie.